Scriviti al nostro canale Luca Revisore Luca Revisore Guardate questa immagine. Scommetto che se chiedesse ad uno di voi di dirmi cosa vede, probabilmente mi direbbe un trapano collegato a una siringa. se vi dicessi invece che è un'apparecchiatura all'avanguardia per il trattamento delle ferite so che sembra impossibile eppure questo è il primo prototipo della macchina che ho sviluppato insieme a due amici durante l'ultimo anno di università sono una biotecnologa con la passione per la stampa 3D e sono convinta che questa applicata alla biologia possa supportarla in molteplici delle sue sfide così insieme a Riccardo e Valentina, due compagni di università iniziamo a sviluppare una stampante 3D un po' speciale che fosse in grado di estrudere non solo plastiche ma anche cellule e biomateriali terminato lo sviluppo di questa macchina ci troviamo in realtà con due cose importanti la prima è la gastrite perché avevamo investito tutto quello che avevamo per realizzare la macchina e per mesi siamo andati avanti con pasta, aglio, olio e peperoncino e dall'altro lato ci troviamo con un bel soprammobile qui la bellezza è soggettiva però per noi era solo che un soprammobile infatti a casa non avevamo né cellule né biomateriali per poterla testare così decidiamo di rivolgerci all'unico soggetto che conoscevamo e che aveva accesso a ciò di cui avevamo bisogno ossia l'università facciamo vari tentativi eppure non troviamo il supporto che cercavamo e che ci aspettavamo pensate che chiedevano soldi a noi per fare ricerca finché non incontriamo il professor Stefano Grolli e tutto il suo team il prof ci accoglie nel suo dipartimento ci ascolta e comprende le potenzialità di questa macchina dal suo lato il prof ci fa scoprire il mondo degli emocomponenti ossia del sangue e dei suoi derivati pensate a quante volte vi siete feriti e da solo il vostro organismo è guarito il merito è del sangue in particolar modo a giocare un ruolo centrale sono le piastrine questi minuscoli frammenti cellulari che entrano in gioco come primi soccorritori le piastrine vanno ad aderire nella zona del vaso che si è lesionata e attivano tutta una serie di fattori della coagulazione molecole segnale che concorrono alla formazione del coagulo la coagula ha due funzioni la prima è quella di bloccare il flusso ematico e l'altra è proprio quella di attivare tutti i processi di rigenerazione del tessuto le potenzialità degli emocomponenti hanno aperto la strada a trattamenti medici innovativi gli scienziati hanno cercato di sfruttare il potere delle piastrine e dei fattori di crescita in esso contenuti per migliorare e promuovere i processi di rigenerazione come nel caso delle ferite croniche quando parlo di ferite croniche parlo di piaghe da decubito ulcere diabetiche ossia ferite che non riescono a guarire da sole pensate che solo in Italia sono oltre 2 milioni le persone che ne soffrono e che devono sottoporsi molto spesso a trattamenti non risolutivi e molto dolorosi nonostante il largo impiego degli emocomponenti in questo ambito questi continuano ad avere dei grossi limiti e sono legati da un lato a quella che è la variabilità nella lavorazione del sangue stesso e dall'altro lato alla manipolazione perché il sangue è liquido perciò pensate di mettere qualcosa di liquido su una lesione ovviamente questo non resterà lì e tenderà a cadere e quindi l'efficacia del trattamento verrà meno ed è proprio qui che entriamo in gioco noi con la nostra stampante abbiamo sviluppato uno scaffold ossia una sorta di impalcatura che intrappola il sangue e lo rende solido migliorando quelle che sono le caratteristiche intrinseche del sangue stesso risolto quindi il problema della consistenza della manipolazione restava il problema della variabilità legata non solo all'operatore che prepara l'emocomponente ma legata anche al fatto che ognuno di noi è diverso quindi il sangue di ogni paziente ha caratteristiche diverse quindi abbiamo capito che dovevamo realizzare un sistema che standardizzasse la lavorazione del sangue ed è qui che nasce Matic ed è Matic la macchina che vi ho fatto vedere all'inizio non avevamo risorse eppure dovevamo dimostrare che la nostra idea funzionava che avremmo potuto rivoluzionare il settore della cura delle ferite perciò mettiamo insieme un trapano, una siringa e delle sacche e iniziamo a raccogliere dei primi dati in vitro da poter mostrare con questi dati andiamo dalle banche che ovviamente non aspettavano nient'altro che tre giovani senza lavoro né garanzie per concedere loro un mutuo ovviamente la strada delle banche non è andata bene abbiamo deciso perciò di andare su un'altra strada quella degli investitori ma sei anni fa quando siamo partiti il mondo delle start up in Italia era ancora un mondo embrionale e a maggior ragione nell'ambito health care tre ricercatori al di fuori dell'università senza un brevetto e con un laboratorio in casa difficilmente infondono fiducia perciò anche questa strada non andò bene subito capimo che dovevamo aumentare la nostra credibilità che dovevamo anche acquisire delle competenze manageriali che non avevamo come biotecnologi così iniziamo a partecipare a dei percorsi di accelerazione fatti apposta per le start up ed in uno di questi, per fortuna abbiamo incontrato Andrea Chiesi della Chiesi Farmaceutici Andrea si appassiona al progetto ne comprende quelle che sono le basi tecnico-scientifiche e diventa nostro advisor in quel momento la nostra credibilità è cambiata siamo riusciti a trovare finanziatori abbiamo avuto modo di avviare la nostra azienda e finalmente terminare lo sviluppo di Ematic realizzando quindi un sistema completamente automatizzato per il trattamento delle filite se da un lato Ematic è stato molto complesso tutto quello che ha riguardato il suo sviluppo ci ha provato dall'altro lato siamo riusciti a realizzare un sistema molto semplice il medico effettua il prelievo di sangue dal paziente lo inserisce all'interno della macchina insieme a un kit monouso che contiene lo scaffold e questo in breve tempo restituisce il patch pronto per essere applicato sulla lesione realizzando così una medicazione personalizzata e riassorbibile i primi risultati positivi sono arrivati dal settore veterinario questa è Birba è un labrador con una ferita alla zampa di oltre 20 cm grazie a Ematic quindi una sola applicazione del nostro patch in meno di tre mesi la ferita è completamente guarita segno di come si è in grado di dimezzare il tempo di guarigione delle lesioni senza lasciare cicatrici in realtà durante gli anni di ricerca su Ematic ci siamo resi conto di come le sue proprietà potevano dare beneficio anche ad altri ambiti anche in altre applicazioni come nel caso della ricrescita dei capelli nel trattamento ai tendini ai legamenti o nelle osteoartrosi ossia in tutte quelle patologie in cui è necessario dare una spinta al processo rigenerativo questo ci ha insegnato come nel percorso verso una meta passano nascere delle nuove possibilità altrettanto interessanti che dobbiamo sempre essere pronti a cogliere oggi sono orgogliosa di dirvi che Ematic è ormai giunto al termine del suo percorso regolatorio questo significa che a breve milioni di pazienti finalmente ne potranno beneficiare voglio lasciarvi con un disegno preso dal piccolo principe chi lo guarda in realtà molto spesso non vede nient'altro che un cappello in realtà chi lo aveva disegnato voleva raffigurare un boa nell'atto di ingoiare la propria preda ossia un elefante l'augurio che voglio farvi è quello che possiate vedere anche voi il boa nell'elefante come noi siamo riusciti a vedere Ematic in un trapano e di avere anche la forza e la caparbietà di perseguire e realizzare la vostra idea perché si può fare